Gambaro troppo critico con i mister italiani che sono il top posso chiederti chi sono i 3 milioni allenatore della serie A rispondi rapidamente Zeman, Ventura e Montella E' l'ordine quello? Il suo ordine Il mio ordine? Il suo ordine E' conto No no, dico così, le chiedo a lui c'è l'ordine Che ne hanno detto tre non quattro Vabbè metto quattro comunque è conto Ma è vero che stai cercando di recuperare che devi trasferirti a Torino? Mi sembra che stai disperatamente cercando di recuperare in chiave Juventina No, ci mancherebbe, Conte secondo me in Italia è uno dei più bravi Certo se lo paragoniamo ai Mourinho e altri non si avvicina neanche lontanamente